Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul Dr.D Channel. Oggi vogliamo parlarvi del 9 ottobre. Cosa c'è il 9 ottobre? Beh, il 9 ottobre al Verona Fiera ci sarà la Fiera dei Fumetto. Esatto, quindi Verona Fumetto, organizzata in collaborazione con La Tana del Nerd e VHC, ci sarà appunto questo evento dove siamo special guest, ospiti speciali. Dr.D Channel e GAMESTIME insieme alla nostra fusione saremo con uno stand totalmente dedicato al gaming, all'animazione e a una cosa fighissima. Che cos'è che c'è? Beh, ci sarà la possibilità per tutti voi che verrete a trovarci di provare lì sulle linee fiera nel nostro stand la realtà aumentata. Eh sì, la realtà aumentata. L'HTC VIVE, il top, la creme della creme della realtà aumentata. Al momento è veramente una delle migliori in commercio e noi vi vogliamo dare la possibilità di provarla perché è una cosa veramente fuori di testa. Cioè vi catapulta in mondo, vi catapulta in sistema di gioco totalmente innovativo, totalmente nuovo e totalmente inento. Esatto. Ma poi oltre a questo avremo anche altre cose da fare. Eh sì, avremo. Proporremo altre cose. Famite lui? Beh, intanto avremo la nostra sezione videoludica, quindi le postazioni, un paio di postazioni da provare, nuovi giochi ucciti, fare una partita FIFA per ammazzare il tempo. E in più anche avremo la possibilità, anche avrete la possibilità, di provare il nuovo gioco di carte, nuovo ormai da tre anni presente, quasi tre anni presente nel nostro paese, Force Will. Ah, Force Will, quel fantastico gioco che mi hai insegnato l'altro giorno a giocare. Esatto. Quel gioco che sta catturando milioni di appassionati giochi di carte e che vi regalerà una promo speciale per aver provato il gioco. Esatto. Quindi ragazzi, dovete assolutamente venire. E non è finita qua. Perché io, come Dr. D, sarò a fare un workshop, prima di tutto, sul palco principale. Quindi potrete vedere dal vivo come realizzo uno dei miei oggetti. Due, metterò in palio una bacchetta, una delle mie famose bacchette della Dr. Ollivander D Series. Una cosa veramente epica. E per di più la GameStop metterà in palio un Funko Pop. Quindi una cosa fighissima e pensato un po'. Il Funko Pop sarà dedicato e regalato al vincitore del miglior cosplay femminile o maschile. E il Funko Pop sarà proprio uno di questi. Quindi se vincerà un Harley Quinn, vi regaleremo un Harley Quinn. Se vincerà un Deadpool, vi regaleremo un Deadpool. Quindi ragazzi, state attenti, portate un cosplay e vincete come i cosplay conosciuto. Verrà bene il Funko Pop. L'original, purtroppo, avremo difficoltà. Eh sì, a meno che non chiamiamola Funko Pop. Ciao, ci fai questo? Però non credo che la Funko Pop. Vogliamo provarci, ma non assicuriamo niente. Quindi ragazzi, dovete assolutamente venire a Verona Fumetto, a trovare noi, a trovare tutti gli stand, ovviamente, che ci saranno alla fiera. Venire a partecipare alla gara cosplay con questi fantastici premi. Poi, per di più, dovrete venire a provare l'HTC Vive, perché è un'occasione più unica che rara. Perché non solo ci sarà l'HTC Vive, ma potrete conoscere i programmatori e dei creatori di videogiochi. Che è la NULTEC, appunto, che ci porterà l'HTC Vive, è una creatrice, una sviluppatrice di videogiochi veramente, veramente all'avanguardia. Quindi potrete conoscere e capire come viene creato un videogioco da zero. Quindi ragazzi, vi aspettiamo il 9 ottobre a Verona Fiera. Non mancate. Non mancate, non potete mancate. È vietato mancare. Se mancate, vi arriva il veteran Ranger a casa. Ragazzi, meglio che ci siete, se no. Assolutamente sì. Vi perdete una cosa che è veramente più unica che rara. Esatto. Bene, allora, che dire, ci vediamo domenica. Ciao!